Ciao a tutti, io sono Stefano e bentornati in un nuovo video, un video davvero caldo perché è il video delle uscite di agosto. Davvero molto molto poche come era prevedibile questo mese, però come sempre prima di parlarvene promotion time, vi invito a lasciare un mi piace, commentare e condividere il video, iscriviti al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con tutti i nostri contenuti ma soprattutto per aiutarci a crescere sempre di più. Inoltre sempre qui sotto in descrizione trovate anche i link di affiliazione di giochi che mettono nella mia personalissima wish list, giochi che io ritengo personalmente interessanti, come sempre a voi non costeranno nulla di più ma così facendo supporterete il nostro canale, il nostro progetto e il nostro lavoro aiutandoci a migliorare ancora ed ancora. Inoltre se siete di Padova o comunque nei dintorni vi aspetto anche direttamente in negozio sia per i vostri acquisti o anche solo per giocare visto che c'è una ludoteca gratuita e anche l'aria condizionata che visto che è agosto direi che male non fa. Inoltre sempre qui sotto in descrizione anche il link per l'articolo completo delle uscite per approfondire i giochi che vi interessano ma soprattutto perché quello lo posso aggiornare giorno dopo giorno in caso di uscite dell'ultimo minuto e inoltre anche i link per tutti i nostri social, sito Facebook e Instagram quindi vi aspetto anche lì perché ci sono un sacco di contenuti esclusivi ma allora cominciamo subito. Sigla! Ma allora cominciamo subito con Asmodee come sempre che il 2 agosto farà uscire The Mandalorian Adventures. Quando gli viene offerto un lavoro redditizio un solito cacciatore di taglie inizia un viaggio che metterà alla prova le sue capacità e cambierà il mondo che conosce. I giocatori saranno il leggendario cacciatore di taglie e i suoi alleati mentre lavoreranno insieme per completare audaci missioni ispirate proprio alla prima stagione di The Mandalorian. Ovviamente io non l'ho vista comunque ognuno avrà delle sue carte proprie e specifiche con delle strategie che sono proprie del personaggio e dovremo cercare di collaborare per superare gli ostacoli e completare gli obiettivi della missione. Partite che sembrano collegate l'una all'altra in una sorta di storia infatti l'azione si svolge su questo libro delle mappe quindi un libro delle avventure e che vanno a ricreare i momenti più memorabili della prima stagione appunto della serie Disney+. Una meccanica di gioco intuitiva e facile da spiegare e ogni partita aggiungerà nuove regole, nuovi componenti e missioni aggiuntive rispetto alle precedenti tra cui anche dei tradimenti e quando si parla di tradimenti io sono sempre in prima linea e infatti vi posso dire guardavo qua ma l'ho messo qui alla fine che è qui tra le mie mani quindi lo proverò ve ne posso anche parlare o meglio ve ne parlerò perché è arrivato proprio oggi che sto girando questo video e quindi devo dire che sono davvero molto molto curioso. Il 6 agosto poi uscirà la versione mini di Azul Summer Pavilion. Azul Summer Pavilion era uscito già un bel po' di anni fa quello con le tessere a losanga a rombo era uno degli azul che mi piacevano devo dire. Ora come Azul Mini c'è anche questa versione mini sempre il 6 agosto. Il 22 agosto poi uscirà Dune Imperium Insurrezione. È un nuovo gioco base sempre della serie Dune Imperium però con nuove meccaniche. Se conoscete un po' la saga sapete che tutto gira attorno a questa spezia ma in questo caso c'è la spezia melange io la dico così. Dopo aver tradito e distrutto la casa Atreides l'imperatore ha ridato alla casa Arconen il controllo del pianeta Arrakis ma un misterioso guerriero è salito al potere fra i Fremen minacciando così i piani dell'imperatore ed i suoi alleati. Quello che una volta era una faida di sangue tra grandi case ora è diventato qualcosa di più grande. Dune Imperium Insurrezione è un gioco di costruzione del proprio mazzo quindi di deck building e piazzamento lavoratori che trae ispirazione dagli elementi e dai personaggi della saga di Dune e questa scatola è compatibile appunto con il gioco precedente Dune Imperium. Inoltre con questa scatola c'è anche una nuova modalità per sei giocatori squadra contro squadra per una battaglia ancora più epica. Andiamo avanti perché poi il 22 agosto rimaniamo in tema Dune perché ci sarà Dune la guerra per Arrakis. In questo avvincente gioco asimmetrico la casa Arconen mira a conquistare Arrakis con le sue truppe e far sì che la spezia continui a scorrere in modo da non perdere il supporto delle grandi potenze dell'imperium. Nel frattempo però il giovane Paul della casa degli Atreides è diventato messia e deve guidare i ribelli Fremen e lottare contro le sue visioni. Mentre gli Arconen fanno affidamento sui loro veicoli come gli ornitotteri e le ali trasporto per muovere le truppe ed evitare così i pericoli che si celano sotto la sabbia, gli Atreides invece hanno imbrigliato il potere del deserto cavalcando i colossali vermi delle sabbie. Ogni fazione impiega strategie specifiche per raggiungere le proprie condizioni di vittoria attraverso comodanti unici e peculiari carte pianificazione. Ho dato un'occhiata a materiali e tutto quanto, bellina la scatola, meglio la copertina, dentro sì le miniature carine ma non ho visto molto altro o perlomeno non è proprio nel mio genere, nel mio gusto personale per quanto riguarda l'estetica. Ma non sarà da sola questa scatola perché sempre il 22 agosto uscirà Dune, la guerra per Arrakis, la gilda spaziale. Questa è un'espansione appunto per il gioco base e porta sul campo di battaglia i rinforzi dell'Imperium in aiuto dei giocatori. Quindi gioco base anche espansione come vi dicevo il 22 agosto. Chiudiamo ora quindi tutta la fetta di Dune per aprire un grande classico che c'è sempre quindi Arkham Horror Living Card Game, il gala di mezzo inverno. Nel cuore dell'inverno l'elite di Arkham si ritrova nella nebbiosa Kingsport per partecipare a questo gala suntuoso dell'enigmatico circolo della lanterna. Ovviamente non ci vuole tanto prima che dei mostroni escano appunto all'improvviso per creare scompiglio e staranno di smascherare le oscure trame del circolo prima che i leader più influenti di Arkham vadano incontro ad una fine alquanto terribile. Questo è uno scenario inedito per 1-4 investigatori che si schiereranno con una fazione a scelta per reclamare la potente reliquia al centro del nefasto complotto del circolo della lanterna. Questo scenario può essere giocato appunto come scenario singolo o come una storia secondaria in qualsiasi altra campagna. Il 28 agosto poi uscirà QNS, quante ne sai da 1 a 10? È una sorta di quiz che mescola un po' anche il gioco d'azzardo o comunque il pusherluck. Le carte sono divise in quattro categorie, ognuna di questa contiene un argomento di cui le squadre dovranno valutare la propria conoscenza appunto su una scala da 1 a 10. In base alle risposte le squadre avanzeranno o in alcuni casi retrocederanno. Un gioco a quiz quindi con una meccanica di pusherluck che più alzeremo la difficoltà dell'argomento trattato quindi più rischieremo e più verremo ricompensati ma potremo anche perdere preziosi punti. Con questo andiamo all'ultimo gioco targato Asmodè perché il 30 agosto uscirà il fiume d'oro. Costruisci il tuo impero commerciale sul fiume d'oro mentre tenti di guadagnare influenza alle corti di Rokugan, un regno leggendario dove il favore divino può davvero cambiare il tuo destino. Ad ogni turno il tuo tiro di dado ti presenterà tre opportunità uniche ma potrai sceglierne solo una. Fare crescere il tuo impero commerciale costruendo lungo le rive del fiume, navigare con le tue barche per caricarle di merci e denaro oppure concludere un accordo prezioso con un importante avventore. Se il risultato del dado non si è data però al nostro piano, alla nostra strategia potremo far leva sul favore divino cercando così di manipolare direttamente il nostro destino. C'è inoltre anche una mini espansione inclusa e gratuita che è Mecenati dei clan dove andremo a reclutare un leggendario mecenate dotato di nuove e potenti capacità che ci offriranno strategie e metodi di vittoria alternativi. Qui sì che i materiali sono davvero molto molto belli perché infatti il gioco presenta uno splendido tabellone con elementi in rilievo dorati metallizzati illustrati dalla maestra cartografa fantasy Francesca Barald. Spero di averla pronunciata bene. È bellissimo il tabellone è proprio bello da vedere anche il gioco devo dire che sembra davvero molto molto avvincente e quindi questo va sicuramente nella mia wish list perché mi ha interessato e non poco. Con questo andiamo a chiudere Asmodee per aprire Craneo Creation che lancerà qualche bel titolo interessante sul mercato. Iniziamo sempre con agosto dovrebbe uscire questa volta per davvero maialini salterini avremo appunto questi trampolini e questi maialini da lanciare sul trampolino farlo ribalzare per poi farlo atterrare in questa conca centrale di fango per guadagnare così punti vittoria e poi i maialini sono carinissimi ve ne avevo già parlato il mese scorso. Usciva poi anche Mesos migliaia di anni fa una nuova era stava iniziando per il genere umano. I cacciatori raccoglitori novadi che avevano faticosamente guadagnato il loro posto sulla terra si iniziavano ad organizzare in piccoli clani in piccoli gruppi in piccole tribù per formare così una sorta di piccole città. Noi saremo appunto questi capo tribù. Dovremo scegliere attentamente che lavori affidare alle persone che si uniranno a noi costruendo edifici specializzati e dovremo anche prepararci con saggezza per gli eventi che dovremo affrontare. È un gioco di set collection quindi collezione di carte di set di carte molto particolare perché c'è questa fila di carte diciamo avremo il nostro totem la nostra piedina e più avanti la metteremo quindi più verso destra la metteremo prima giocheremo ma potremo prendere e scegliere tra meno carte più indietro andremo più invece potremo scegliere tra più carte e prendere più carte ma giocheremo per ultimi quindi ci rimarrà quel che ci rimarrà. Le carte ci daranno punti scusate e avranno effetti diversi chi avrà più punti alla fine vince la partita. Molto particolare la scelta appunto la modalità per prendere queste carte devo dire che anche questo sembra molto interessante quindi anche questo va sicuramente tra i giochi della mia wishlist. Ma andiamo avanti perché ce ne sono ancora perché dovrà uscire anche i pirati di Maracaibo. Salpate in cerca di un'avventura e di prede da razziare in quella che potrebbe essere la vostra ultima avventura. Affronteremo il pericolo e vivremo l'avventura ancora una volta in cerca dei tesori più favolosi ma dovremo anche ricordarci di nasconderli e seppellirli altrimenti saranno poi alla merce di tutti. Pirati di Maracaibo è un gioco stand alone della stessa linea del popolare Maracaibo del 2019. Il gioco dura tre round salperemo per i caraibi e recluteremo la ciurma, ci alleeremo anche con le altre ciurme, esploreremo le coste e ovviamente accumuleremo il bottino più grande rispetto agli altri o almeno ci proveremo. Chi sarà il pirata più temibile della storia? Pirati che non mi fanno impazzire come ambientazione però il gioco devo dire che sembra davvero molto molto interessante. Uscirà poi anche ad agosto dovrebbe uscire Progetto Gaia la flotta perduta, è la prima espansione del gioco Progetto Gaia che comunque vi lascio qui sotto in descrizione la recensione del gioco base. In questo gioco le astronauti della flotta perduta sono state trovate, la notizia ovviamente si è diffusa in ogni parte della galassia, sia le fazioni più lontane che quelle più vicine stanno cercando di impadronirsi dei segreti di queste antiche civiltà. Infatti nella scatola troveremo nuove fazioni che aggiungono nuove opzioni di gioco, nessuna di queste avrà un pianeta d'origine e iniziano tutte con una singola struttura. Queste fazioni introducono nuove abilità speciali che creano così nuove situazioni di gioco. Ci sono anche poi nuove azioni perché le navi della flotta perduta stavano aspettando solo l'arrivo delle nostre navette e una volta che le avremo raggiunte avremo la possibilità di attivare queste nuove azioni. Avremo anche nuovi pianeti perché ora lo spazio ospita anche asteroidi e protopianeti pronti per essere colonizzati. Non ho mai approcciato Progetto Gaia quindi non so effettivamente cosa andrà a cambiare questa espansione. Alzo le mani e non lo so sapete che a me la cosa fantascientifica spaziale non mi attrae mai particolarmente quindi ci sono sempre stato un po' lontano magari anche per colpa mia quindi solo gusti personali. Chiudiamo Cranio Creation e apriamo Ravensburger perché il 9 agosto per la pre-release uscirà la quinta wave di l'Orcana Cieli Scintillanti. Dopo aver sconfitto Ursula tutti stanno festeggiando appunto per la pace ritrovata. Questo fino al prossimo cattivone che arriverà non si sa quando ma teorie complotti e quant'altro parlano di Ade e se fosse così io sono pronto ad urlare. Sappiatelo. Anche qui nuovi personaggi arriveranno a far parte del mondo di l'Orcana soprattutto per quanto riguarda il mondo di Ralph spacca tutto ma un sacco anche di altri personaggi vecchi e nuovi così come nuove carte rare ed oggetti unici. Nuovi accessori qualcuno per caso ha detto il tappetino di Bell che è bellissimo è proprio bello bello bello. Nuovi mazzi base e anche qui con un accento su Frozen quindi non posso che amare e ovviamente un sacco di booster pack quindi bustine per andare a personalizzare il proprio mazza. A me l'Orcana piace stai piacendo sempre di più e quindi sono davvero molto molto curioso di vedere come sarà questa nuova wave. Chiudiamo Ravensburger per aprire Avalon Hill che il 23 agosto farà uscire HeroQuest le giungle di Deltrack. È la nuova espansione appunto di HeroQuest con una grafica epica questa espansione si avventura nelle pericolose giungle dove un potente reliquiario nanico è stato rubato e qualcosa di davvero nefasto ha infettato la terra. Nei panni di un potente berserker 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 o di un eroe esploratore attraverseremo la giungla e scopriremo quali terribili segreti ci celano sotto a quelle chiome. Questa espansione è caratterizzata da una meccanica di scegli la tua avventura con 16 diverse imprese mai viste prima nuovi personaggi e miniature altamente dettagliate. Questa espansione poi è caratterizzata dall'alta rigiocabilità. Chiudiamo Avalon Hill per aprire Man Calamaro che dovrebbe teoricamente far uscire Unmatched Sun's Origin. È la scatola con due personaggi che è ambientata nel Giappone feudale. Infatti avremo Oda Nobunaga, scusatemi tantissimo, famoso per aver unificato il Giappone feudale. È un tattico provetto il che rende la sua guardia d'onore ancora più pericolosa. E poi avremo anche Tomoe Gozen. Colpisce duramente ma soprattutto velocemente inseguendo senza sosta il suo nemico sul campo di battaglia e se non ricordo male è quello che anche può scambiare di posto con il suo bersaglio. Il set presenta anche le splendide immagini di Yotu Onoda con la consulenza culturale di Saigo. L'ho provato al Modena Play, vi lascio qui in alto il mio video che vi parlo appunto anche di questa scatola di Unmatched. Non mi piace molto il tema ma le meccaniche e i personaggi mi erano piaciuti davvero davvero tanto quindi non vedo l'ora che esca anche questa scatola e quindi va a finire nella mia wishlist e poi dopo questo aspetto tantissimo non vedo l'ora quella ambientata o meglio quella caratterizzata dai personaggi di Shakespeare e poi hanno da poco annunciato la scatola delle tartarughe ninja e qui non vedo l'ora che figata. Con questo chiudiamo appunto Manca Lamaro e apriamo l'ultima casa che è Kenos Games perché il 30 agosto farà uscire Corridor Pac-Man. Corridor rimane il gioco Corridor quindi noi andiamo a mettere o un muro o ci spostiamo lo scopo è arrivare dall'altra parte appunto della plancia ma c'è anche una nuova versione quindi un nuovo gioco nel gioco che è la versione Pac-Man che permette anche così di giocare in cinque giocatori. I giocatori hanno obiettivi diversi Pac-Man vuole mangiare tutte e quattro le palline d'energia presenti sulla mappa mentre i fantasmi devono cercare di catturare Pac-Man per tre volte prima che lui possa vincere. Il primo ovviamente a portare a termine il proprio obiettivo vince la partita. Davvero molto molto interessante e carino l'avevo già intravisto anche questo al Play Modena e devo dire che è una figata è una figata è un'idea geniale quindi sì anche questo va a finire nella mia wishlist perché è una commistione davvero davvero intrigante. Con questo poi andiamo a vedere qual è l'ultimo gioco di Genos Games che è Taco Micho Pizza sempre il 30 agosto ed è la versione di Taco Gatto Capra Cacio Pizza per i più piccoli. Lo scopo del gioco è liberarsi delle carte. Il giocatore dovrà dire uno di questi tre personaggi quindi Taco Micho Pizza e girare la carta. Se quello che ha detto è raffigurato sulla carta può continuare a giocare ma se uscisse il gelato tutti devono mettere la mano al centro del tavolo sopra il mazzo di pesca e il più veloce sarà il nuovo giocatore di turno. Il primo che appunto si libera di tutte le carte vince la partita. Una versione semplificata del gioco adatta appunto per i più piccoli e questi erano i titoli i pochi titoli di questo agosto anche perché poi settembre sarà bello denso da quello che ho visto. Ci sono pochissimi titoli perché tutti sono rimandati a settembre quindi preparatevi a un mega mega video di settembre. E allora nel caso mi fosse dimenticato qualcosa come sempre ora tocca a voi scrivete qui sotto nei commenti che cosa vi ispira cosa non vi ispira, quale titolo manca, solite cose tanto sapete come funziona. Come sempre appena posso io vi leggo e vi rispondo. Vi ricordo inoltre di lasciare un mi piace, commentare e condividere il video, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con tutti i nostri contenuti ma soprattutto per aiutarci a crescere sempre di più. Inoltre ho trovato anche appunto i link ad affiliazione per tutti i giochi che ho messo nella mia wishlist, quelli che per me sono interessanti. Come sempre a voi non costeranno nulla di più ma così facendo ci date una grossa mano a migliorare sempre di più quindi davvero grazie. Inoltre sempre in infobox trovate anche i link per l'articolo completo per approfondire e rimanere sempre aggiornati con eventuali nuove uscite e anche i link per tutti i nostri social sito facebook e instagram quindi vi aspetto anche lì perché anche se agosto noi non ci fermiamo o meglio rallenteremo un attimo comunque rimarremo sempre qui a scrivere e fare video ma soprattutto a giocare. Detto questo non mi resta che augurarvi buone vacanze per chi va in vacanza e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti!